Ma che via è questa qua, la verce pesante la mano, ma che via è, ma che via è, e questa è mia la via qua ragazzi, in mezzo al delirio qua del, come siamo qua in Congo, e Davido ne spinge, e tutti vogliono, e quello vuole i soldi, e quello vuole la fresca, guarda qua ragazzi l'oro di Davide, guarda qua l'oro di Davide, vai metti dentro, a me sta sudando già, con le mani questo qua eh, questo è la gara di Kobe, bravo, io lo sai, questo è il brisao di Kobe, vai spingi, Siamo già belli belli, siamo già belli carichi qua ragazzi, vai, sempre Don Prignan 2.4 qua ragazzi, facciamo vedere solo, un pezzo di gamba da ragazze qua, vai, Don Prignan 2.4, qua ci abbiamo il Raduno degli Alpini, adesso Davido ne spesta a bidone, abbiamo il Kobe qua e tutto, vai, i poverari della chiesa, in una Milano quasi deserta, anzi direi proprio deserta, zona depressa di Milano, guarda qua, guarda qua, RS6, guarda qua, Ferrari, Ferrari, Porsche, Z, che cazzo è qua, la Treti, come cazzo si chiama queste macchine qua, solo roba pesante, tutte qua in gintoneria, ci avete messo le biciclette? E io le metto in mezzo alla strada, le macchine, che voglio dire eh, levatemi queste biciclette di qua, ma si può mettere queste biciclette, vai mi qua, davanti a un locale come il mio, davanti a un locale come il mio, su queste bici di merda, che cazzo le usano queste bici, queste schifezze di biciclette qua, dai, dai, vergogna, vergogna, vai, 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 vai una, due e quattro, terza bottiglia, vai vai, che viviamo di notte, vai vai Mauro, vai Maurino, vai verso le ragazze, via, Don Perignon come non ci fosse un domani vai ragazzi, è una mia quasi deserta il ferro nuovo che abbiamo preso per Righello qua, con la sua fidanzata bellissima dai, oh, ma io penso io penso a quelli che se ne sono andati che lavoravano da me, Righello ma che cazzo faranno adesso fanno lo spezzato a 1200 euro fanno lo spezzato a 1200 euro vai Righello, spingi ferro per te, te l'ho preso per te vai Righello vai, diverti con la tua fidanzata vai Righello ti vanno a far lo spezzato gli altri vai, diverti di cazzo, cavallo mio con mio figlio questo qua a questo punto, dopo che Righello stai andando col Ferrari nuovo che gli ho preso con la sua fidanzata penso a tutti quelli che se ne sono andati da me dove siete? cosa fate? rendevate 3-4 mila euro al mese e oggi fatelo spezzato a 1200 euro al mese penso anche a voi ex fidanzate che si mamè le levate Crook, Dom Pignon, Crista, Salon e oggi state bevendo qualche Moet Tais avanzato in discoteca e portato a casa? penso a voi ricordatevi che c'è solo un sole e tutto il resto sono meteore e sono pianeti e vivete solo di luce riflessa mia che quando vi allontanate a me vi spegnete buonanotte a tutti aiuti a mia svuotaria porta a cedere io ragazzi seguirei cioè io vi giuro ragazzi io seguirei vi do il tag ciò è arrivato a 10 fino profilo chiuso quindi dico vieni a seguire 24 anni single 24 hai 24 25 25 single single bellissima e non ha trovato ancora un fidanzato che sono tutti di coglione ammirato è vero però bellissima ragazzi intelligente anche